In questo periodo ricorre il decennale della scomparsa di Marco Pantani. Diceva Cassani, attualmente direttore tecnico della nostra nazionale, quando parli di Pantani con la gente, l'interlocutore abbassa gli occhi, perché è una sorta di ferita aperta un po' per tutti. Sì, abbassa gli occhi perché è una ferita aperta, come hai detto tu, perché Marco è rappresentato per il ciclismo italiano nel grandissimo evento, che nella quale in quel periodo, mi ricordo, guardavano il ciclismo, non solo i tifosi di ciclismo, ma tutti, dagli bambini, ai ragazzi, al papà, alle mamme, ai nonni, e di questo c'è da arneato. Poi nel frattempo purtroppo sono stati commessi tantissimi errori, nella quale non sta a me giudicare, perché non mi piace giudicare gli altri, e sicuramente questo rattrista molto, è meglio ricordare il Marco Pantani quando era venuto da me a firmare il primo contratto. Allora, il primo Pantani, l'ultimo Pantani, nel mezzo una vita di successi, ma anche una vita difficile, nella quale confrontarsi col vivere quotidiano, per lui è stato, diciamo, complicato. Sì, molto complicato, si è trovato in una situazione difficile anche per lui, grande personaggio, tutti lo clamavano. Secondo me è stato difficile per lui gestire questo grande successo, essere aiutato a gestirlo, di conseguenza si è infilato in una galleria a fare i spenti e abbiamo visto tutto alla fine che ha fatto, purtroppo è andato così. Non ti dà fastidio oggi sentire alcuni commenti di persone che, magari dieci anni fa o undici anni fa, non dico che fecero di tutto per affossarlo, però di certo non lo aiutarono? Sì, mi dà molto fastidio perché tutti stanno cavalcando ancora Marco nel decennale, raccontano e scrivono tante cose inesatte e questo sicuramente fa male perché Marco ha commesso degli errori, ma sicuramente non di come stanno scrivendo adesso e che il ciclismo, purtroppo, di quello che è successo a lui, non ha assolutamente nessuna colpa. La verità è che il ciclismo ha provato ad aiutare Marco Pantani? Guarda, io penso che tutti abbiamo provato ad aiutare Marco Pantani, in primis Romano Cenni dalla Mercatone 1 dove lui correva, dai direttori sportivi, tutti quanti, abbiamo provato tutto, io per ultimo nel 2003 che sono stato chiamato, ero convinto di poter riuscire, invece purtroppo ne siamo usciti tutti sconfitti a malincuore. Ci sarà un altro Pantani? Ci sarà la possibilità di rivedere un corridore così forte, così straordinario, così incredibile anche per il modo di correre? Ma questo ci auguriamo tutti perché lo scalatore, come era lui, grande, forte, imprevedibile, grande classe, grande personalità, come ho detto prima ha fatto del bene al ciclismo perché lo scalatore significa fatica, sacrificio, la gente lo acclamava, vuole quel ciclismo lì. Io mi auguro che alla svelta arrivi uno come Pantani, però penso che, lo vedo che sarà molto difficile. Non è stato di certo il corridore più forte nella storia del ciclismo, di sicuro però è stato il più spettacolare, possiamo dire così? Possiamo dire il più spettacolare, il più imprevedibile, sicuramente la gente vuole bene, si entusiasmo guardando le volate, spericolate, cronometrista, però lo scalatore è un fascino particolare e lui per me è stato uno dei più grandi, se non il più grande scalatore che abbiamo avuto nel mondo.